Modificato dall'aggiunta il regolamento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale, per la prima volta saranno tenuti al versamento anche gli immobili destinati alle locazioni brevi e gli alloggi per uso turistico. La tariffa per persone è stabilita in 3,50 euro al giorno, come quella già in vigore per bed and breakfast, affittacamere e case vacanza. Dopo 22 anni finalmente ha avviato l'ITER per il rinnovo della concessione a Roma Capitale e delle sorgenti del peschiera Le Capore. La richiesta di rinnovo della concessione, scaduta nel 1996, è stata presentata dal Campidoglio alla Regione Lazio in occasione dell'attivazione della cabina di regia presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tutto pronto per la 24esima edizione della CEA Maratona di Roma in programma domenica 8 aprile, una maratona da record con oltre 10.000 runner che si misureranno nel suggestivo percorso di 42 km in pieno centro storico e per le decine di migliaia di partecipanti alla fan run di 4 km. Quest'anno esordio per gli atleti paralimpici europei con la prima edizione della gara a loro dedicata.